ciao sono loredana un saluto a san marino è r tv ciao loredana solo dieci secondi per l'appunto per la tv di san marino e tutti ti amano e c'è stata una standing ovation e dopo la partecipazione era albano i social sono impazziti era albano si era albano l'ho riconosciuta dal cappello i social sono impazziti appena hanno detto che tu partecipavi a questo contesto tutti ci tenevo tanto ci tenevo spero di arrivare in svezia c'è un motivo particolare molto particolare tanto voglio rompere le scatole mio ex marito voglio rompere tutte le uova nel paniere ma ecco la tua canzone invece è fantastica racconta una parte di te ci commetti questa fase della tua carriera questa fase della mia vita diciamo che mi amo incondizionatamente non succede spesso perché io non mi riguardo mai non mi piace non mi piaccio mai ed è molto difficile che io dica sono contenta di quello che ho fatto io dico sempre potrei farla meglio cioè potrei cantarla meglio potrei avere una seconda occasione per rifarmi per chiudere ti abbiamo visto fuori la gente ti ha accolto sono stati i baci abbracci si beh quelli fanno sempre piacere mi fanno piacere sì che devo dire grazie specialmente quando una canzone diventa di tutti questo mi fa mi fa molto piacere grazie grazie a tutto il mio pubblico grazie votate per me